Il questore di Napoli, Alessandro Giuliano, ha firmato il divieto dei funerali in forma pubblica e solenne per Raffaele Cutolo, il boss della nuova camorra organizzata, morto mercoledì sera in ospedale a Parma, dove era detenuto in regime del carcere duro. Domani sarà eseguita l'autopsia, poi la salma sarà trasferita ad Ottaviano, città natale del padrino. I tempi dipenderanno dal disbrigo delle pratiche burocratiche. Le segue potranno svolgersi solo in forma privata all'interno del cimitero, con la partecipazione dei congiunti più stretti e senza corteo. L'amministrazione comunale potrebbe poi disporre ulteriori misure per evitare eventuali assembramenti all'esterno della struttura. Siamo col prefetto di Napoli dalla parte dell'istituzione, non siamo giudici e non vogliamo esserlo. Con tutto il rispetto per la vita e per la morte si sta parlando pur sempre di un delinquente. «Qualsiasi decisione prenderà sui funerali il prefetto avrà le sue ragioni. Abbiamo piena fiducia e deciderà sicuramente al meglio». Aveva detto così Fabio Giuliani, referente regionale di Libera, contro le mafie per la campagna in merito alla decisione del prefetto. Cutolo, dal punto di vista della sua portata criminale, era già finito da molto tempo e da parecchi anni non esercitava alcun tipo di potere. Ha rappresentato l'emblema di una storia irripetibile fortunatamente per tutti noi. Ovviamente non ha agito da solo, ma con grandi connivenze di quei tempi.